Garzia dice che vincerà lui lo scudetto. E' giusto, è un'invenzione, bisogna cercare di fare quello e penso che la squadra è all'altezza. Ha le potenzialità per riuscirci? Ha le potenzialità, c'è tutto. Ed è il suo il gioco più bello, quello di Garzia? Prego? È il gioco di Garzia, il gioco più bello delle squadre italiane? Vabbè, come un gioco diverso da quello che ho io in mente, a me a volte sembra nervioso.